Sono così tediata di veder gente che si dibatte tra insussistenze totali e poco collaterali, purtroppo, al loro modus vivendi, al punto da inglobare anche altre insurrealtà del tutto ipotetiche e fondate su un bel nulla. Si parla di quinti piani eterici, dimensioni transposoniche e babble di varia specie. Da dove proviene la certa soluzione che qualsiasi cosa si desideri sia così complanare a quello che si cerca, fino ad occupare quinte, seste, settime e ottave misure reggenti di seno, o, intendo dimensioni alternate ed alternative, al punto da far sembrare i work of fiction che promanano dalle pruderie della propria mente realtà. Tutto trae origine dall'insicurezza delle persone e dalla loro incapacità di correlare cause ed effetti al netto della teleologia, un costrutto frutto del wishful thinking che non dovrebbe avere alcunché a che fare con la mentalità di una persona scientificamente matura, dove il termine avverbiale può essere liso per indicare semplicemente qualcuno di cerebralmente sviluppato per intendere che Great Claims, per quanto questo sia equivalente ad un nulla di fatto parlando semplicemente di stasi amorosa emotiva, requiere Great Proof. Prove sonanti, e voi non ne avete alcuna.